È sempre il momento giusto per una serata tra ragazze e non ci saranno ragazzi. Anche se qualcuno sta cercando di intromettersi. È iniziata la guerra degli scherzi. Non so praticamente nulla. L'insegnante non è nemmeno sveglio. È il peggior giorno della mia vita. Come fa Zoya a sapere tutto? Ehi, posso copiare? Ho un'idea. Un lecca lecca? Bel tentativo. Solo una risposta. Ti piace il cioccolato, vero? Bibita? No! Per favore, non posso andare male. Farò qualsiasi cosa. Per favore, Zoe. Ho capito. Ti faccio lo spelling. No! Capito? Niet. T-Duck. Nine. Cavolo, che caratteraccio. Pronto? C'è qualcuno? Eh? Fatto? Sono sicuro che sei stata bravissima. Wow! Hai davvero studiato, eh? Sono intelligente. Studiare è molto importante. Pensa di sapere tutto, eh? Scommetto che questo non se l'aspetta. Vediamo che farà. Ben fatto, Zoe. Siediti pure. Guarda che sguardo compiaciuto. Siediti, cara. E... Abbiamo un contatto. Oh, Dio. Ho appena... Direi proprio di sì. Brian! Dovresti vedere la tua faccia. Non sono stata io. Giuro. Che ridere, vero? La pausa è già finita, eh? Bene, bene, bene. Cosa abbiamo qui? Che lo scherzo abbia inizio. Se n'è andata, vero? Ottimo. Così dovrebbe bastare. Oh, dove ho messo le chiavi? Devono essere nella borsa. No, avrei giurato fossero qui. Che strano. Zoe? Cerchi queste? Mi hai letto nel pensiero? Ci vediamo. C'è mancato poco. Cos'è questa roba raccapricciante? Quello è... Un topo? Non può essere vero? Oh, è stato fantastico. Aspetta un attimo. Ma non è un topo vero? Come ti vengono in mente certe cose? Ti pare divertente? E' esilarante. Sono stato bravo. L'auto stava andando veloce, subito prima di colpire il muro. Ehi, Zoe. Comunque, la macchina va a 100 chilometri all'ora. E in pochi secondi... Zoe! Ma ascoltami. Sta per esplodere, ok? E poi... Aspetta. Come l'ha riavuto? Incredibile. Oh, è finita. Torno subito. L'occasione giusta. Ti piace stare al telefono? Staremo a vedere. Brian? Che succede? E' un martello, quello? Aspetta. Brian? No! Tutto tranne il telefono. Ti prego. No! Non ci posso credere. Non ci posso credere. Il mio dolce e bellissimo telefono. E' in mille pezzi. Aspetta. Come fa a muoversi così? E' difficile rompere il vetro con la gomma piuma. Ok, ora torniamo alla mia storia con la macchina. Non berresti mai il tabasco con una cannuccia? Beh, non volentieri comunque. Una bibita invece? Più ce n'è, meglio è. E quando il bicchiere è pieno, ci va la salsa piccante. Fa in modo che si veda solo la cannuccia. Dopodiché la copriamo. Due bibite in arrivo. Oh, grazie. Di nulla. Chi è questo tizio? Aspetta, non fai un sorso? Chi è? Non ora, mamma. Oh, è davvero arrabbiata. Non posso ignorarla. Devo rispondere per forza. Invio. Molto meglio. Che razza di bibita è questa? Salsa piccante. Questa è opera di Brian, sicuro. Pensa di essere il re degli scherzi. Staremo a vedere. Ok, mi dispiace, mamma. Oh, alla salute. Salute. Rimpiangerà questo brindisi. Nessuna reazione? Strano. Cos'è quel sorriso? Oddio. Ho appena bevuto della salsa piccante. Ok. Niente panico. Ti spiace se mi siedo? Abbiamo del gelato? Dammene un po'. Vaniglia. Il mio gusto preferito. Bene, ho il mio. Mangia in fretta. Finalmente. Grazie. Ehi, non ho pranzato. Oh, ho capito. Gelato al wasabi? Una bella porzione lo manderà in crisi. Ovviamente bisogna spalmarlo. Sembra un gelato al tè verde. Che schifo. Inizia lo spettacolo. Spero tu abbia ancora fame, Brian. Come lo sai? Sembra buono. Oh, sì. Buonissimo. Delizioso. Oh, no. Disgustoso. Pensavo ti piacesse il wasabi. Oh, e quelli cosa sono? Non è stata una grande idea? Decisamente pessima. Scappo. Questi scherzi ti hanno ispirato? I tuoi amici li adoreranno? Beh, se non saranno le tue vittime. Facci sapere come va.